ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi lunedì 13 novembre 2023 e vediamo subito come è sempre l'inizio della nostra trasmissione qual è l'almanacco del giorno e chi si festeggia oggi e vediamo sfogliando le pagine troviamo santo mobono tucenghi santo mobono visse a cremona nel dodicesimo secolo figlio di un sarto laico sposato con figli non era un religioso quindi un uomo normale un uomo che ha vissuto la sua vita però con un principio morale particolarmente esaltante quello della disponibilità verso gli altri ebbene soprattutto verso i poveri santo mobono si distinze fino a essere considerato un santo e ora è nominato patrono dei sarti e dei tessitori quindi coloro che svolgono ancora questa professione che purtroppo va sparendo perché tutto poi si risolve in maniera industriale vediamo che hanno anche loro un loro protettore santo mobono vediamo anche le previsioni del tempo questa mattina un avvio di settimana buono stabile e solleggiato sulle marche c'è una eccezione che riguarda il transito però di innocue velature in rialzo in modo particolare nel sud della regione marche sulle coste i venti ispireranno da una direzione di ovest all'interno da sud ovest le temperature 7 gradi la minima particolarmente bassa 19 19 la massima vediamo anche il sole il sole sta per sorgere alle 7 05 tramonterà alle 16 e 44 ed ora apriamo i giornali vediamo subito la prima pagina del resto del carlino con la sintesi delle notizie che vengono pubblicate all'interno oggi lunedì come sempre il carlino ha un'edizione leggermente ridotta rispetto agli altri giorni e vediamo l'assunto delle notizie sulla provincia di pesaro urbino e vediamo una notizia di sport che campeggia con una foto notizia si parla di luca marini il campione delle moto che cambia team e sale sulla onda il fratello di rossi saluta il clan della vr 46 un post del campione di tavuglia benedice la decisione insomma queste sono un po le modifiche che animano il mondo del motociclismo parliamo anche di urbanistica ecco il giornale presenta gli appartamenti che sorgeranno in zona porto ebbene sono appartamenti che hanno conosciuto una traversia giudiziaria lunga e particolare e ora sembra che si sia risolta e c'è anche un imprevisto per un ragazzino che tocca un segnale stradale e riceve la scossa vedremo poi la notizia in seguito passiamo ad Ancona vediamo la benedizione di un grande pasticcere ecco il re dei dolci qui per rinnovare Massari Massari spiega il perché ha deciso di investire sulla città e ad aprire una pasticceria e poi vediamo la cronaca calce e pugna la fidanzata all'interno di un autobus è successo anche questo e poi si parla ancora di mala sanità perché un malato di tumore non è riuscito a prenotare un esame che gli hanno prescritto i medici che è essenziale per curare la sua malattia ad Ascoli e a Fermo fioravanti a caccia del bis Bernardini in missione quasi impossibile per quanto riguarda le elezioni quindi si parla di politica e poi a Lido Trearchi i volontari raccolgano rifiuti abbandonati nel Fermano si è disputato il paglio dei comuni Montegiorgio vince la casa e faccia inquina ad Ascoli aiuti agli anziani soli SOS inflazione l'assessore Brugni buoni spese per le famiglie guardate che l'inflazione sta erodendo veramente il potere di acquisto di molte persone in modo particolare i pensionati coloro che devono fare conto di una cifra fissa ogni mese e quando questa cifra riesce a soperire sempre meno alle esigenze normali, alle spese quotidiane gas, luce, telefono, insomma le cose essenziali ebbene alla fine del mese non ci si arriva ebbene questo è un problema da tenere sotto controllo vediamo anche la pagina di Macerata Pediatria Oncologica Lions in campo per i piccoli pazienti il club service sostiene la sanità e in modo particolare quella rivolta ai bambini mentre a Civitanova il mercato itico l'asta anzi del mercato itico va in tilt ed è una gestione deludente ad Apegnano sorge la nuova RSA fiduzione falsa funzionario dell'IRCA condannato a risarcire questo è un po' il panorama delle notizie pubblicate oggi dal resto del Carlino apriamo la pagina e verifichiamo qualche notizia che riguarda soprattutto la provincia di Pesaro Orbino ed ecco qua il progetto degli appartamenti del porto due grandi torri che sorgeranno con 60 appartamenti i lavori dovrebbero finire entro l'ottobre del 2025 un'inchiesta giudiziaria quella che è stata compiuta che è durata due anni e ha bloccato di fatto la realizzazione degli edifici in seguito ad una divergente interpretazione di una norma del piano regolatore insomma c'era chi diceva che quella zona non poteva essere edificabile altri dicevano di sì gli operatori, gli interessati, i costruttori hanno fatto ricorso al TAR hanno vinto il ricorso ed ora potranno costruire due volte l'hanno fatto questo ricorso al TAR e poi anche al Tribunale Penale hanno vinto tutte le cause ed ora potranno essere costruiti ben 62 appartamenti finiranno appunto nell'estate del 2025 e poi sempre per quanto riguarda l'edilizia abbiamo una presa di posizione dell'Ordine degli Ingegneri l'Ordine degli Ingegneri con il suo presidente Renato Morsiani i quali criticano gli ingegneri appunto la nuova legge urbanistica che è stata presentata dalla Regione Marche Regione restringe il piano casa così non va dicono gli ingegneri infatti i tecnici lamentano un appesentimento dell'iter e il taglio delle volumetrie sì il taglio delle volumetrie la nuova legge urbanistica della Regione taglia gli ampliamenti concessi durante il Covid dal piano casa quegli ampliamenti che dovevano sopperire le esigenze delle imprese edilizie in quanto quello era un periodo molto oscuro e quindi molti rischiavano di restare senza lavoro secondo la Regione ora quel periodo è finito e si ritorna un po' ad una urbanistica meno espansiva e per questo il lampiamento viene ridotto dal 40 al 20% questo non era nelle promesse dicono gli ingegneri e quindi questa legge urbanistica non va e poi c'è un appesentimento dell'iter burocratico mentre la Regione da una parte dice che sono state sveltite tutte le procedure da parte degli ingegneri invece negano questo beneficio e dicono no c'è stato invece un appesantimento e dunque c'è un contraddittorio tra i tecnici e i politici vediamo ora l'episodio del ragazzo che ha avuto la scossa toccando un segnale stradale cartello stradale con la scossa un sedicenne lo sfiora e rischia grosso i pompieri smontano il palo ovviamente dopo quanto è accaduto è accaduto l'altra sera alle ore 22 in via Mascagni a Pesaro angolo viale Trento paura per l'adolescente è stato chiamato il 118 per soccorrerlo oltre al 115 per l'immediata messa in sicurezza della strada e per fortuna questo ragazzo ricevuto la scossa ha toccato per puro caso la renghiera in ferro della casa accanto questo ha permesso di fare massa ed ha evitato che la scossa elettrica provocasse conseguenze nefaste insomma conseguenze veramente molto molto grandi il termine nefaste vuol dire che era in pericolo anche la sua vita e per fortuna questa cosa si è risolta al meglio e subito comunque il palo è stato rimosso salvarono 78 persone salvarono un 78enne scusate, no persone salvarono un 78enne caduto nel pozzo i vigili del fuoco premiati a Firenze guardate, sono questi i vigili del fuoco che sono stati premiati davanti a Palazzo Vecchio a Firenze era un uomo di 78 anni che era precipitato in un pozzo profondo 10 metri nelle campagne del Cairo nei pressi di Monbaroccio rischiava di morire annegato e assiderato ma l'intervento dei vigili del fuoco della centrale di Pesaro è riuscito a salvarlo per quel salvataggio che è avvenuto nel mese di luglio del 2022 sabato scorso a Firenze questi vigili del fuoco hanno ricevuto il premio Scudi di San Martino i vigili del fuoco sono Amedeo Tamborini caposquadra Davide Morelli Luciano Ruggero Diego Tordoioli Giuseppe Milella Matteo Andreatini Alessandro Vitali e Chiara Soriani questi i vigili benemeriti che sono stati premiati è stato premiato anche l'imprenditore Enrico Enrico Loccioni fondatore dell'omonima impresa il quale ha ricevuto ad Acqualagna il premio Enrico Mattei e con questo premio si è chiusa la 58esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che ha posto veramente Acqualagna quest'anno alla ribalta nazionale sia per gli ospiti illustri che ha ricevuto sia per la qualità dei tartufi che hanno raggiunto pesi ragguardevoli questo per quanto riguarda appunto le notizie pubblicate dall'arresto del Calino possiamo anche vedere un attimo Ancona dove vediamo l'aggressione che è avvenuta all'interno di un autobus davanti ai passeggeri calci e pugni alla compagna sul bus un 85enne e invece è stato a soccorso a bordo era caduta a terra dopo una brusca frenata dall'autista che sono problemi che nascono all'interno dei bus mentre eccolo qua lo sbarco di Massari il pasticcere il re dei dolci che si racconta credo in questa città verrò a trovarvi presto c'è un'intervista pubblicata al maestro pasticcere che ha aperto uno store in centro Ancona è un luogo ad hoc ha dichiarato per uscire da certi schemi tradizionali ed ora chiudiamo il resto del Calino per aprire il Corriere Adriatico vediamo subito la pagina di Fano dedicata al Carnevale ebbene così come il Natale non è lontano non è lontano nemmeno il Carnevale che accade subito dopo perché quest'anno il Carnevale è piuttosto basso infatti le date sono quelle del 28 gennaio del 4 e 11 febbraio sono queste le date dei tre grandi corsi mascherati che si svolgeranno in Viale Gramsci si lavora si lavora a lacrimente per il Carnevale del 2024 una festa fuori degli schemi così ha promesso la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gian Marioli ebbene festa fuori degli schemi perché è un po' il tema che caratterizzerà la realizzazione dei grandi carri hanno un tema comune un tema un po' provocatorio un tema che riguarda appunto un tema che riguarda voglio vedervi eccolo qui fuori dalle righe e dagli spazi un tema che fa riferimento alle parole chiave disturbo futuro e musica dove la parola disturbo è chiaramente una provocazione per attuare pienamente il convolgimento del pubblico insomma una certa trasgressione contenuta nei limiti ovviamente è permessa nel periodo di Carnevale insomma un disturbo un disturbo che deve essere comunque un disturbo gradevole un disturbo piacevole un disturbo che fa uscire dal trantran della vita quotidiana comunque dicevo fermano intensamente nei cantieri del Carnevale i lavori per la realizzazione dei nuovi carri che faranno parte delle grandi tre sfilate in programma per il 2024 la novità al momento sono quattro i carri nuovi dovrebbero essere però sembra che possono essere di più con l'avvento di nuovi sponsor comunque sono due grandi due carri di prima categoria e due carri di piccola di seconda categoria comunque dicevo potrebbero aumentare e poi il Corriere Adriatico evidenzia ancora la storia di quella mamma ucraina che a Lucrezia non è riuscita al momento ad iscrivere il proprio bimbo nel plesso della sua della sua cittadina nel plesso di Lucrezia infatti i dirigenti di quella scuola l'hanno dirottato per la scuola di Cartoceto un problema questo per questa mamma che non è automunita che lavora tutto il giorno e quindi non ha la possibilità eventualmente di seguire il suo bambino nella scuola più lontana di Cartoceto ha chiesto in maniera molto molto sentita l'iscrizione di questo bambino nella scuola di Lucrezia all'inizio è stata legata poi invece la preside si è mostrata più possibilista però questo provvedimento deve essere ancora perfezionato e ancora la mamma nonostante che la dirigente abbia comunicato al corriere che il bambino può frequentare la scuola di Lucrezia ancora la mamma non sa nulla di questa decisione mio figlio ancora non va a scuola non riesco a portarlo a Cartoceto l'appello della mamma ucraina che venerdì è stata convocata anche dai carabinieri i quali hanno segnalato la cosa ai servizi sociali e al sindaco di Cartoceto nuovo piano regolatore documenti resi noti da un mese è la presidente del consiglio comunale di Fano Carla Cecchetelli che replica alle prese di posizione dei partiti del centro-destra che sabato scorso hanno lamentato dei problemi di carattere procedurale per la convocazione del consiglio comunale di domani saranno tre sedute del consiglio comunale ci saranno delle repliche anche venerdì e sabato prossimo perché all'ordine del giorno è la discussione del piano regolatore generale un provvedimento importante un provvedimento che dovrebbe così influire sulla attività edilizia sull'attività urbanistica della città di Fano da qui a dieci anni quindi veramente una decisione importante che cosa hanno lamentato i partiti del centro-destra una consegna di documenti una grande mole di documenti che si riferiscono al piano regolatore con la possibilità di esaminarli solo in quattro giorni un periodo insufficiente per affondare veramente l'interesse su tutti i risvolti di questa importante delibera secondo invece la Presidente tutto è stato fatto secondo le norme dato che questi documenti erano già a conoscenza della opposizione perché sono stati resi noti e si parla di link ovviamente perché tutto ormai viene svolto in digitale durante le commissioni consigliari e poi anche prima durante le riunioni convocate dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi beh è un batti e ribatti di carattere politico il centro-destra ha fatto ricorso anche in Prefettura e vedremo se per domani il consiglio si farà oppure sarà rinviato io credo comunque che si farà vediamo ancora le altre notizie diffidate dagli sconosciuti e non date soldi incontanti questo titolo dovrebbe essere sempre affisso all'interno di una casa a termine della messa i consigli del maresciallo paterniani contro furti e truffe è accaduto a Mondolfo a Mondolfo ieri mattina si è tenuto l'incontro pubblico dei carabinieri della stazione di Mondolfo con la comunità locale a termine della celebrazione eucaristica nella collegiata parrocchiale di Santa Giustina nella piazza del comune il maresciallo Davide Paterniani comandante della stazione di Mondolfo ha illustrato mezzi e modi in uso da parte dei ladri e truffatori che prendono di mira in modo particolare le persone sole dunque ha messo in guardia tutti i cittadini ma in particolarmente in modo particolare gli anziani di tutti i modi con cui i truffatori con la loro parlantina con i loro raggiri riescono a truffare gli anziani in modo che questi siano messi sull'avviso quando si incontrano questi figuri e possono reagire in maniera conveniente è stato trovato in mezzo a un campo un armadietto dei fucili forzato e abbandonato è stato trovato a Monteporzio ovviamente la cosa è stata segnalata ai carabinieri che stanno svolgendo indagini non c'è notizia di un furto di armi di fucili però insomma questo questo armadietto blindato desta qualche perplessità qualche problema e quindi si incentiviano le indagini si incentivano le indagini vediamo Senigallia Senigallia ha messo il vestito più bello per il forum dedicato agli americani luminari accese per gli americani Senigallia una città meravigliosa ebbene gli ospiti hanno avuto tutto un weekend per girare la città ma anche le zone limitrofe prima di partecipare questa mattina alla riunione in programma si tratta dell'European Travel Agenti Forum i lavori inizieranno stamattina alla rotonda dopo un weekend libero per girare tra Senigallia e zone limitrofe l'evento è già sortito i primi risultati è già sortito i primi risultati in termini di pubblicità e vediamo anche le notizie di Pesaro l'apertura è dedicata alle zone blu e quindi all'inquinamento atmosferico ci sono certi veicoli che non potrebbero entrare nelle zone fortemente urbanizzate nei centri storici perché le loro emissioni gasose sono ormai desuete e quindi sono superiori ai limiti tollerabili e quindi sono state costituite delle zone di divieto che vengono definite zone blu allora zone blu e impianti termici in vigore le regole anti-smog e qui c'è l'articolo che elenca tutte le strade vietate in mezzi a benzina e diesel fino a euro zero fino a tre previste cinque deroghe anche quest'anno in casa si sta 19 gradi per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento che ormai possono essere accesi e per le polveri sottili il 2023 è una vera sorpresa i termosifoni non si possono accendere per più di 11 ore al giorno la temperatura massima ordinata dall'amministrazione comunale è quella di 19 gradi con 2 gradi di tolleranza quindi si può arrivare anche a 21 e si possono accendere i riscaldamenti nelle abitazioni dall'8 novembre fino al 7 aprile prossimo e poi ci sono queste zone blu che vietano il transito dei veicoli più vecchi e la zona blu è delimitata vi dico la zona che è appunto all'esterno della zona statale 16 la strada dell'Ardizio via Lombroso via Pertini la ferrovia il fiume Foglia e il mare tutto quello che rimane dentro questa zona è vietato ai veicoli più vecchi Adria Bus cerca 10 autisti il direttore è un'impresa il limite è il costo elevato per la patente che abilita il trasporto di persone certo non è facile ricevere la patente per chi guida un autobus nuovo ospedale entro il 2024 è la reazione di Fratelli d'Italia che insorge contro le critiche che sono state espresse per il nosocomio di Muraglia Fratelli d'Italia accusa dalla maggioranza solo strumentalizzazioni e bugie noi poseremo hanno detto sicuri Fratelli d'Italia poseremo la prima pietra e poi vediamo anche un altro articolo quello dell'affitto che ormai sta raggiungendo veramente cifre molto molto alte una stanza una stanza viene affittata per 450 euro al mese i prezzi shock per l'emergenza a casa un'emergenza che coinvolge diversi centri della provincia sia Pesaro Fano che anche Urbino due reazioni all'annuncio in Bacheca ma tanti si mettono in fila per informarsi sull'offerta e secondo le più recenti stime nel 2023 c'è stato un aumento del 13,70% per metro quadro rispetto al 2022 e a Pesaro si è celebrata la giornata della gentilezza oggi la dedica è alla giustizia c'è un incontro all'Alexandre Museum Palace ospite il magistrato Silvia Cecchi e poi al pronto soccorso c'è l'armadietto solidale l'associazione Gulliver assicura biancheria per pazienti in difficoltà quindi un aiuto anche per coloro che si trovano in situazioni particolari all'interno del nosocomio vediamo anche la pagina di Urbino l'azienda cresce con il territorio centrali le persone e l'ambiente è la filosofia dell'imprenditore Enrico Loccioni che alla Qualagna ha ricevuto come abbiamo visto sul resto del Carlino il premio Mattei questo per quanto riguarda le notizie per concludere vediamo qualche notizia di sport la leggiamo sul resto del Carlino ebbene data male per la Vis Pesaro al Manuzzi è una notte da incubo Vis è travolta il Cesena ne fa 4 risultato che non lascia commenti anzi commenti molto dolorosi Cesena 4 Vis Pesaro Vis Pesaro 0 invece per Fano e Senigallia 2 a 2 un risultato che soddisfa entrambe questo è tutto per il momento vi do appuntamento alle 7 per un'altra conferenza stampa alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie Grazie a tutti.